AVEVO SEDICI ANNI La musica è stata la mia salvezza. Mi ha permesso di esprimermi, di sentirmi libera. Quando sono salita per la prima volta su una moto, ho provato la stessa sensazione di libertà che provo quando canto. Quando ho incontrato Oscar, ho capito che con XSR 125 la strada avrebbe potuto trasformarsi nel mio palcoscenico di ogni giorno. Lui mi ha osservata, mi ha studiata e poi ha messo la mia personalità su un foglio e il mio carattere in ogni dettaglio. Ora, tutti i giorni, quando guido in città, mi ricordo che non esistono percorsi già tracciati, che ogni giorno può prendere una piega diversa e che la piega giusta la posso scegliere io.